Adesso è ufficiale. Le voci che si rincorrevano con insistenza negli ultimi giorni hanno trovato finalmente conferma. Rosa Scarano sarà la candidata dell'opposizione a sindaco di San Diego. Si propone di sostituire il marito, l'italo-venezuelano Enzo Scarano, destituito e imprigionato per non aver tolto le barricate che per protesta erano state erette nel suo municipio come gli era stato ordinato dal Tribunale Supremo di Giustizia. Ramon Guglielmo Aveledo, segretario della Messa della Unità, ha reso nota la decisione durante una conferenza stampa a Valencia. Il leader della MUD ha sottolineato che i sindaci possono essere destituiti o eletti solo dai cittadini. Rosa Scarano, anche lei figlia di emigranti italiani, spera di ripetere il successo del marito Enzo, che vinse con oltre il 75% delle preferenze.